Potrà sembrarvi dissacrante se parlo della mia cappella privata nell'ora dedicata alla preghiera, ma se un titolo impellante bisogno di raccontarvi un film d'autore uscito nel 1962. E poi siamo nel mese dedicato a lui, che è un regista e scrittore così controverso, che è morto esattamente 40 anni fa in circostanza e non è ancora del tutto chiarita. Bien, scusatemi se sussurro un po' mentre vi parlerò di Mamma Roma di Pierpaolo Pasolini. Il neorealismo condivide in questa opera aspetti salianti. L'attenzione per i ceto poveri espressi nella borgata, nella vita di espedienti, nei personaggi caratteristici forse addirittura esasperati. Ma qui fa un passo in più rispetto ad Accattone, che la vostra comtesse considera fondamentale. Mamma Roma, interpretata dall'unica attrice italiana detta di Pasolini, che aggiunge che dalle sue occhiaie vive e mute si addensa il senso della tragedia. È una prostituta. Vive in una borgata. Ha un figlio e un magnascio che sostiene di averla ripulita, di averle tolto i pidocchi quando lui aveva 28 anni e lei 40. La rivoluzione sta nel fatto che, una volta liberatasi del pappone, comincia a pretendere per suo figlio ettero una vita da piccolo borghese. Vuole dargli un lavoro, una motocicletta, una casa in un quartiere borghese. Lo allontana dalla prostituta di cui si è innamorato, gli trova un lavoro usando il ricatto e gli dice addirittura «Ao, carogna, ma che sei comunista? Va che mica andiamo d'accordo, sai, se ti butti a fare il compagno?» Per Pasolini è questa la vera tragedia. Il desiderio di integrazione del sottoproletariato è per l'autore primo segno di omologazione di desideri e bisogni resi in arrestabile dallo sviluppo del consumismo. Per Pasolini questo è il genocidio, la scomparsa del mondo popolare, anche se solo come tendenza. Ed è anche Roma che perde i suoi figli. Ettore muore solo, a nulla è servito il lavoro, a volte sporco, della madre. Vorrei parlarvi della scena di morte del suo bianco e nero contrastato, ma cito le parole dell'autore e al critico Roberto Longhi, scritte su Vie Nuove il 4 ottobre 1962. Ah, Longhi, intervenga lei, spieghi lei come non basta mettere una figura a discorso e guardarla con le piante dei piedi in primo piano per parlare di influenza montegnesca. Ma non hanno occhi questi critici? Non vedono che bianco e nero così essenziali, fortemente chiaro oscurati della scella grigia dove Ettore, canottiera bianca e fascia scura, è disteso sul letto di contenzione, richiama pittori vissuti operanti molti decenni prima di Montegna? O che semmai si potrebbe parlare di un'assurda e squisita mistione tra Masaccio e Caravaggio? Eh sì, queste parole ci spiegano che alla materia bassa si aggiungono modelli culturali altissimi, cosa tipica in Pasolini sia nella narrativa che nella poesia che nel cinema. Bien mes amis, adesso facciamo silenzio e pensiamo ai nostri peccati. Au prossimo peccato!